Un argomento molto più importante. Ognuno di noi deve essere promotore della sicurezza degli altri e tutore di quella propria. Questo è il messaggio che l'ACI Salerno stamattina ha consegnato agli studenti del Liceo Pisacani di Padula nell'ambito di un corso sull'educazione stradale appositamente organizzato per sensibilizzare i giovani su questo tema fondamentale. È pervenuta da parte del Liceo Scientifico la richiesta all'ACI di essere qui presenti per i corsi di educazione stradale nelle scuole. È un aspetto molto importante che come ACI Salerno curiamo in modo particolare, tanto più in questo periodo perché siamo nella settimana della sicurezza stradale. Quindi un'attenzione ancora più particolare in questo periodo a tutti gli aspetti legati alla educazione e alla sicurezza stradale. E gli effetti della distrazione alla guida e gli utenti deboli della strada. Purtroppo, come è emerso durante la giornata, i giovani liceali di Padula hanno avuto un'esperienza diretta delle terribili conseguenze degli incidenti stradali perdendo in questo modo assurdo compagni di scuola, amici e vivendo il dolore della perdita improvvisa di loro coetanei. Il Liceo, proprio per questo, ha ritenuto ancora più importante diffondere tra i suoi studenti il rispetto delle regole, invitare alla prudenza e informare sui rischi quando si è sulla strada attraverso un ente competente come l'ACI. Noi curiamo molto come istituzione scolastica quelli che sono i valori trasversali dell'educazione alla cittadinanza e senza dubbio una gestione delle regole stradali consapevole e attenta significa oggettivamente portare avanti un principio di rispetto, di educazione alla legalità, educazione anche alla salute. Sappiamo benissimo quello che accade il sabato sera quando attraverso i giornali e i mezzi di comunicazione scopriamo cosa significa circolare senza rispettare le regole sulle strade. E quindi per noi questi momenti sono altamente significativi.